Bene, abbiamo parlato molto di innovazione, di progetti innovativi, di start-up, di app, progetti digitali, proviamo a vederne alcuni, ne abbiamo selezionati cinque, da farvi vedere con il metodo rapido, veloce, i cinque minuti classici dell'aspirante innovatore che si ritrova in ascensore con il potenziale investitore. Chiamo subito sul palco il primo progetto Eva Voci, analista finanziaria di Mod Finance, ci parla di Speak. Prego, cinque minuti da molto. Buon pomeriggio a tutti, io sono Eva Voci e lavoro nella società Mod Finance e oggi vi presenterò Speak. Allora, Mod Finance è una società che ufficialmente è nata nel 2009 e nel 2009 è nata grazie allo sviluppo di questa metodologia innovativa che si chiama Amor e serve per lo studio del merito creditizio sia delle aziende che delle banche. Nel 2015, nel luglio del 2015 c'è stato riconosciuto dall'ESMA che è l'autorità europea della regolamentazione degli strumenti finanziari e del mercato e l'autorizzazione ad operare come agenzia di rating, come potete vedere. Dall'ottobre 2016 siamo stati autorizzati anche ad emettere rating sulle banche. La nostra società è appunto alla sede in area di ricerca a Padriciano, infatti siamo nati come startup innovativa all'area di ricerca e siamo stati incubatori di Innovation Factory. Quindi, Mod Finance è la prima società di rating europea fintech. Bene, cosa si intende con fintech? Per fintech si intende una società dove operano due anime principalmente, quindi l'anima finanziaria e l'anima tecnologica, possiamo chiamarla. Per quanto riguarda l'anima finanziaria, appunto, noi svolgiamo analisi di bilancio, quindi valutiamo i bilanci e valutiamo le aziende e le banche. Dall'altra parte, noi operiamo un'analisi massiva sui big data, quindi facciamo delle analisi di tipo quantitativo. In Europa ci sono poche agenzie di rating riconosciute, noi siamo una di queste. E cosa ci rende così unici? Bene, se noi pensiamo che ci sono circa 65 mila società quotate, le agenzie di rating tradizionali analizzano principalmente queste società. Però ci sono più di 25 milioni di società che hanno dati pubblici, noi le valutiamo tutte, quindi la grande differenza e quello che ci contraddistingue è proprio il fatto di riuscire a valutare, studiare, a dare un rating a tutti questi 25 milioni di società. Da poco abbiamo sviluppato un modello che ci permette di studiare anche 200 milioni di società di tutto il mondo. Questo attraverso lo studio non soltanto delle analisi di bilancio, quindi non soltanto dei dati finanziari, ma anche attraverso l'utilizzo dei big data. Infatti abbiamo sviluppato un modello che ci permette di analizzare anche società che non hanno dati finanziari pubblici. Questo grazie all'analisi massiva dei big data e a data mining che ci ha permesso di sviluppare questo modello che è proprietario. Quindi come possiamo aiutare noi il territorio? Cioè a cosa serviamo? Cosa facciamo veramente in sostanza? Allora noi aiutiamo il mondo finanziario in generale grazie alla produzione dei report riconosciuti come credit rating agency e quindi questo ci permette di avere un riconoscimento europeo e europeo che dopo ci viene riconosciuto a livello globale e che ci permette di dare appunto una reportistica in grado di analizzare le società. Abbiamo una reportistica dedicata come analisi di bilancio e analisi dei dati con il commento dell'analista e infine abbiamo anche l'analisi dei dati di bilancio dove assegniamo una classe come credo tutti ben sapete come agenzia di rating e quindi andiamo ad assegnare uno score quindi un merito creditizio ad ogni azienda. Tutto quello di cui vi ho parlato quindi nella nostra analisi i nostri report li ritrovate nell'app Speak che è l'app di cui sono venuta a parlarvi qua oggi. Bene questa app aiuta non soltanto le grandi imprese, il mondo finanziario, le multinazionali ma è in grado di aiutare anche i piccoli imprenditori quindi le piccole realtà che magari avere a che fare con un report molto complicato e più complesso diventa impensabile. Proprio per questa ragione noi parliamo di democratizzazione del rating quindi rendendo accessibile queste informazioni che risultano essere molto complicate anche a realtà più piccole quindi a realtà più piccole del nostro territorio anche alle piccole e medie imprese. Quindi quanto ho detto bene noi siamo una società che è nata appunto come start up in area di ricerca e siamo cresciuti e continuiamo comunque a risiedere in area di ricerca quindi abbiamo un forte legame con il territorio. Tutti i dipendenti e quindi i collaboratori di Mod Finance hanno studiato a Trieste, alcuni hanno dottorati e alta specializzazione e alta formazione chi ha la sissa o chi in altri centri di eccellenza comunque regionali. Quando io sono arrivata che erano 4 anni fa eravamo in 4 persone a lavorare all'interno di Mod Finance adesso siamo in 18. Quindi diciamo che come realtà l'area di ricerca ci ha aiutato molto, ha permesso di sviluppare e sicuramente ci ha sostenuto e quindi dobbiamo ringraziare sia l'area di ricerca che comunque la regione Svg che partecipa al consorzio dell'area di ricerca. Bene io avrei finito, spero di essere stata chiara e abbastanza sintetica. Grazie anche per la puntualità. Dovessi dare un consiglio ai prossimi studenti da dove potrebbero partire per realizzare l'app? Per realizzare l'app? Beh allora intanto secondo me bisogna partire... Per realizzare un'app di successo. Allora quello è un bel punto. Io direi bisogna avere un'idea vincente, un'idea diversa dagli altri, un'idea sicuramente innovativa e secondo me puntare all'Information Technology è fondamentale soprattutto il giorno d'oggi. Grazie mille, buona fortuna. Grazie mille. La prossima app è in realtà un progetto ancora in fase di realizzazione, chiamo sul palco Raffaella Mestroni responsabile dell'ufficio stampa di Autovie Venete, accompagnata da Daniele Bulfoni di Icon Multimedia. Buonasera, hai diritto un microfono e anche... Ok perfetto, vi lascio a presentare Infoenti 2.0 che in realtà è un'app che non esiste in questo momento ma ci state lavorando molto duro. È un'app che è dedicata non al grande pubblico, è dedicata agli addetti ai lavori, nel senso che noi siamo una concessionaria autostradale, abbiamo una rete di 200 chilometri, una rete molto moderna, ci viene riconosciuto dovunque, ha delle ottime qualità sia dal punto di vista della percorribilità che della sicurezza che del paesaggio, questo non è merito nostro ma insomma ci aiuta e chiaramente come tutte le reti autostradali ha determinati problemi, nel senso che ci sono gli incidenti, non è colpa nostra ma accadono. Il fatto che succeda un incidente significa che in determinate situazioni l'autostrada può avere la necessità di essere chiusa magari per un tratto anche per lunghi periodi di tempo. Questo comporta inevitabilmente l'intasamento della viabilità esterna perché noi mandiamo fuori le vetture che sono rimaste incastrate, chiudiamo tutto e non facciamo più entrare, facciamo solo uscire. Problemi notevoli perché il cittadino giustamente anche non può capire perché si ritrova improvvisamente a Cervignano che non è sull'autostrada e non si muove oppure si ritrova a Basaldella e sta fermo e non sa cosa succede. Abbiamo attivato tutta una serie di strumenti, due edizioni fa a State of the Net abbiamo presentato Autovie Traffic che è una app che invece vi consiglio di scaricare se viaggiate perché vi consente di avere la situazione del traffico in tempo reale con dettagliati anche eventuali incidenti, code, qualsiasi tipo di problematica vi dice dov'è, quanto dura e quanto tempo ci vorrà per risolverla. In caso di situazioni più complesse è più difficile quindi abbiamo pensato di preparare un'app che stanno sviluppando in questo momento i nostri tecnici in collaborazione con la Icon che consentirà di mettere in collegamento e in un secondo step di dialogare quindi sarà a diciamo così a doppio canale e tutte le forze che vengono messe in campo quando c'è un incidente, la polizia stradale, i nostri ausiliari al traffico, la nostra centrale radio operativa, tutti i vigili urbani, la polizia municipale che lavora sul territorio, tutti i mezzi di soccorso. Questo ci consentirà non purtroppo di eliminare l'incidente impossibile però sicuramente di ridurre il tempo per la risoluzione del problema ma di dirottare anche il traffico esterno su dei percorsi alternativi che sono già stati individuati per ogni uscita autostradale. Questa è una cosa che noi facciamo già però in maniera diciamo per adesso artigianale nel senso che per esempio d'estate quando ci sono le grandi code o i picchi di traffico, forse voi avrete sentito parlare del famoso bypass o forse no, è una manovra molto complicata che viene fatta grazie alla collaborazione della polizia stradale, di fatto la staffetta della polizia stradale si mette davanti alle macchine e le ferma, i nostri ausiliari velocissimi vanno ancora più avanti, attivano i percorsi alternativi e poi le vetture vengono dirottate o in uscita o appunto su percorsi alternativi e poi fatte rientrare in posti dove la viabilità è più scorrevole. Detto così sembra semplice, in realtà non lo è proprio però con questa nuova applicazione che si chiama appunto Infoenti 2.0, è un nome bruttissimo però io perdono i colleghi informatici perché l'hanno chiamata loro così perché è appunto per addetti ai lavori e poi sicuramente molto utile, quindi noi privilegiamo l'utilità rispetto in questo caso al marketing. Vi ringrazio. Buonasera, io mi ricollego a quanto ha detto Raffaella e vi illustro qualche dettaglio in più sulla piattaforma Infoenti. Infoenti è composta sostanzialmente da tre parti principali, c'è un'applicazione web che consente agli operatori del centro radio informativo di Autovie Venete di comunicare col personale degli enti e di seguire lo stato delle attività che sono in corso per la preparazione di percorsi alternativi. Poi c'è una app mobile che invece permette agli operatori degli enti di comunicare col centro radio informativo di Autovie Venete e c'è diciamo un'infrastruttura software di anagrafica configurabile che ci consente di associare le diverse tratte che compongono un percorso alternativo ai rispettivi enti territoriali di competenza. Ora per mostrarvi velocemente come funziona il sistema consideriamo una situazione concreta in cui ad esempio ci sia una situazione di criticità all'interno dell'autostrada che necessiti l'attivazione di un percorso alternativo. Allora tramite la piattaforma Infoenti il centro radio informativo di Autovie Venete sarà in grado di inviare un messaggio per comunicare la prevista attivazione del percorso e questo messaggio verrà distribuito automaticamente dal sistema a tutti gli operatori degli enti che sono interessati in base alla competenza delle tratte che sono coinvolte nello specifico percorso alternativo. Gli operatori degli enti a loro volta ricevono una notifica push sullo smartphone e con un semplice tap sullo schermo possono accedere all'app Infoenti che riporta il messaggio inviato dal centro radio informativo e consente anche l'invio di informazioni sullo stato corrente delle lavorazioni, in questo caso ad esempio l'operatore sta inviando un messaggio di presa in carico della richiesta. Tornando nel centro radio informativo qui vediamo un operatore che sta seguendo in tempo reale l'andamento delle operazioni che sono in corso sulle diverse tratte del percorso alternativo e alla fine quindi alla fine delle lavorazioni lo potrà attivare. C'è un'ultima funzionalità che vi voglio mostrare che riguarda questa piattaforma e che è questa, diciamo tramite l'app di Infoenti gli operatori degli enti possono anche segnalare in qualsiasi momento la presenza di eventi critici per la viabilità della tratta stradale che è di loro di competenza e questi eventi possono essere geolocalizzati ovviamente automaticamente grazie all'utilizzo dello smartphone. La segnalazione viene trasmessa immediatamente in tempo reale al centro radio informativo di Autovie Venete che quindi può valutare e può verificare in ogni momento la disponibilità effettiva dei percorsi alternativi. Ecco questo è brevemente quello che vi volevo raccontare oggi e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie mille, questo li prendo io per il prossimo progetto. Grazie. La prossima app ne abbiamo già parlato, ci ha in parte bruciato la Presidente Seracchiani, chiamo Margherita del Dottore degli Alberoni, che è business analyst di, è questo probabilmente? Ah ok, deve collegare il telefono per farci vedere l'app che citava prima la Presidente Seracchiani che è Emergenza FWG, così la vediamo dal vivo. Microfono? Prego. Buongiorno, sono Margherita del Dottore dell'Inseal, vi voglio presentare l'app dell'Emergenza FWG che permette a tutti noi di poter gestire un'eventuale emergenza molto velocemente. L'app è stata sviluppata sia per sistemi Android che per iOS e se la localizzazione è attiva ci permette di vedere qual è il pronto soccorso più vicino a noi e darci la possibilità di visualizzare i tempi d'attesa e quindi scegliere eventualmente dove recarsi. Se la geolocalizzazione è attiva ci mostrerà i pronti soccorsi più vicini, eventualmente se no quelli per tempo d'attesa per il codice bianco. L'app ci permette di visualizzare anche le farmacie più vicine a noi, aperte e quindi soprattutto se ci troviamo nei giorni festivi oppure di notte visualizzare la farmacia di turno più vicina a noi. La ricerca è possibile farla per comune. in questo momento non ci sono farmacie aperte ad Andreis. Insomma andiamo su Udine. Ecco anche qui è possibile visualizzare la farmacia più vicina per un chilometro oppure se la geolocalizzazione ovviamente attiva. È sempre possibile visualizzare la guardia medica più vicina a noi e gli orari di apertura. La guardia medica ovviamente funziona di notte oppure negli orari dalle 10 del sabato oppure tutta la domenica. L'app inoltre è stata sviluppata in tre lingue, inglese, tedesco e sloveno. Inoltre c'è la possibilità di chiamare direttamente il 118. Benissimo. Quanti download avete già fino a questo momento? Viene usata molto? No, non è usata tantissimo perché non è stata, devo dire la verità, molto pubblicizzata. Comunque 7.000 download per il sistema Android e 4.700 per il sistema iOS. E inaspettatamente abbiamo scoperto che per Romania è la 147esima app più scaricata. In Romania? Sì. Il legame con il territorio è molto forte. Grazie mille. Grazie Insiel. Il prossimo progetto rimane in ambito regionale, si occupa di cultura, chiamo Giovanna Tinunin che è project leader di Dof Consulting che per la regione Fiolivanezza Giulia ha curato, sta curando un progetto molto importante che è l'Airpac. Che cosa vuol dire Airpac? Ce lo spieghi tu. Dobbiamo prenderla un po' alla lunga, insomma intanto buon pomeriggio, buonasera. È molto strano stare qua dopo tutti gli anni in cui sono stata lì, quindi è già un po' uno spaisamento. Come diceva Sergio, questa in realtà non è un'app, è un progetto e in realtà non è neanche una start-up se non intendiamo start-up nel suo significato più letterale, quindi fase di avvio di un processo di cambiamento importante. In questo caso è un processo di cambiamento attivato dall'Airpac, che è l'ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. È una realtà appunto regionale nata da poco che accorpa diverse realtà. L'agenzia speciale di Lamanin, i musei provinciali di Gorizia e quello che era fino a poco tempo fa l'IPAC, cioè l'istituto per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. Ho quasi finito con le sigle, giuro. L'istituto in particolare ha assunto all'interno di questo nuovo assetto regionale una funzione fondamentale, oltre a quelle che aveva già. Quelle che avevano già erano la catalogazione e la ricerca, perché ha ereditato la custodia di un grandissimo database di beni culturali, parliamo di 300.000 e oltre schede di catalogazione di beni culturali di tutta la regione. Adesso si occupa anche di formazione e di ricerca. A proposito di formazione, questo è il progetto che stiamo realizzando, è ancora in corso di svolgimento, sta arrivando alla fine del suo primo step. Appunto, vedete, questo è quello da cui siamo partiti per immaginarlo, per progettarlo, e quindi un lavoro anche sul valore percepito da parte del pubblico, del bene culturale come bene comune. Quindi l'obiettivo principale era questo. Oltre alla partecipazione, quindi a una vicinanza maggiore delle persone, del territorio, delle comunità, al patrimonio culturale, volevamo lavorare sulle competenze digitali degli operatori del settore cultura. Prima anche Simone parlava delle competenze digitali della scuola, noi abbiamo voluto proprio investire sugli operatori culturali. Quindi in una doppia chiave di rilevanza del bene culturale, un aggiornamento, diciamo così, della sua modalità di comunicazione, e una maggior partecipazione delle persone. Qualche numero. Questo è un percorso che è stato avviato alla fine di marzo, tra marzo e aprile, e si concluderà appunto nella sua prima fase a metà dicembre. Quindi di ampio respiro e anche impegnativo come attività. Ha visto 167 iscritti su territorio regionale, 53 fra musei e comusei coinvolti, 27 biblioteche, 8 fra mediateche e fototeche, per un totale di 11 giornate d'aula, una giornata di workshop partecipato e una giornata aperta di convegno. Quindi, come vedete, una formula mista sia per quanto riguarda la natura dei partecipanti che le attività. Vado veloce perché parliamo comunque di formazione su competenze digitali, quindi abbiamo approfondito diversi temi, dalle banche dati, ovviamente i social network, tutta la parte di storytelling. Non sto tanto su questo, nel senso che, non perché lo riteniamo poco importante, ma perché gli strumenti si apprendono, si affinano, è una questione di impegno, di allenamento quotidiano. Quello su cui stiamo cercando invece di lavorare è proprio un lavoro sulla consapevolezza e sulla cultura digitale degli operatori culturali, quindi proprio su un cambio di paradigma di tutto il comparto. Punti di forza del percorso sono stati una sponsorship forte, che è quello che serve in tutti i processi impegnativi di cambiamento, quindi proprio anche a livello politico la regione ha creduto molto in questa iniziativa e l'ha supportata. Una progettazione mirata, che significa coinvolgere professionisti che conoscono il settore, sanno di cosa parlano, conoscono le istituzioni e le problematiche che hanno nel gestire anche il bilanciamento tra le attività tradizionali e questo nuovo sforzo di comunicazione attraverso il digitale che viene richiesto. Trasversalità, nel senso che noi abbiamo voluto mettere assieme persone, come avete visto dalla slide precedente, che provengono da realtà diverse, quindi non operatori museali con operatori museali, bibliotecari con bibliotecari e via dicendo, ma abbiamo cercato anche di mescolare competenze e provenienze. Questo ha significato che molti operatori a livello regionale si sono conosciuti per la prima volta durante questo percorso, quindi uno degli esiti in cui noi speravamo che in effetti sia verificato è stato il rafforzamento di una comunità, anche professionale, di altro tipo. Un coordinamento unico ma approcci diversi, quindi il coinvolgimento di docenti che provengono da mondi, da ambiti diversi che hanno potuto portare esperienze particolari. E poi un mix fra frontalità, project work, che è quello che stiamo adesso portando avanti, e un sistema di tutoraggio in presenza e a distanza. Questo un po' riassume alcune delle cose che vi ho detto. Quali sono stati i risultati ad oggi? Non entro nel merito dei singoli progetti di sviluppo, dei project work perché non abbiamo il tempo, ma sostanzialmente direi questi. Quindi attivazione e riattivazione della presenza digitale di molte istituzioni culturali sulla rete, sia a livello di siti ma soprattutto di social. Un contagio positivo, a me capita tuttora di girare anche all'interno di altri percorsi e di trovare colleghi di operatori che hanno fatto il percorso Cultura Viva FWG e si sono incuriositi, hanno voglia di sperimentare anche loro, quindi proprio in questa forma di viralità, diciamo, dell'upgrade di queste competenze. Uno stimolo per gli enti gestori, perché a molte realtà, anche piccole, anche soprattutto dei comuni, è venuta voglia di investire nell'ambito della comunicazione culturale, della valorizzazione del patrimonio. La cosa che vi dicevo prima, quindi creazione di una comunità professionale più integrata, di reti che collaborano, quindi al di là dell'appartenenza territoriale e istituzionale, e poi la riprogettazione, che era uno degli output desiderati, dell'offerta didattica e dei linguaggi. Quindi, non so, un esempio per tutti, il piccolo museo che sta completamente riscrivendo tutti i suoi pannelli, tutte le didascalie, crea guide diverse, usando magari, non so, le illustrazioni, le immagini, lo storytelling. Io ho finito, non so, devo aver sporato, e questo è un invito, aiutateci tutti a raccontare il patrimonio, perché c'è bisogno. Grazie Giovanna, un bel progetto culturale, che contiene un progetto culturale. Esatto. Buon lavoro. Grazie. Bene, ci manca ancora un esempio, ed è, l'abbiamo ottenuto per ultimo, perché in qualche modo racconta cosa succede dopo, tutta la fatica che si fa per lanciare un progetto, per avviarlo verso il successo, chiamo Nicola D'Avanzo a raccontarci la storia di Blue Vago. Prego, Blue Vago è un'app, che permetteva di trovare un imbarco. Un imbarco. Un imbarco. Airbnb delle barche. Sì, nasce con l'intento di rendere semplice la vacanza in barca. Nel 2012, io assieme a un socio, amico da sempre, decidiamo di licenziarci dai propri rispettivi lavori e dedicarci a un'idea, costruendo quella che poi sarebbe diventata la nostra impresa. L'idea era semplice, era quello di rendere appunto semplice l'accesso alle vacanze in barca ad un pubblico che fosse neofita dello stesso e non tecnico nautico. Dall'idea ci siamo trasformati in impresa grazie a un percorso di incubazione che ha visto attivo Area Science Park col suo incubatore Innovation Factory per tutto il periodo del 2013. Ha visto attivo nel senso che ha accompagnato la nostra idea di impresa a diventare proprio un'impresa, nel senso a portarci fin dal notaio. Ha continuato con noi questo percorso fino a quello che è stata poi la exit, l'uscita in parte dalla compagine societaria mediante una vendita a un gruppo imprenditoriale che ha acquistato la società stessa per un importo, attivando un investimento di un milione di euro. Questa attività di impresa ha vista la stessa Area Science Park dunque generare la società assieme a noi cioè era socio al 20% con un investimento di 70 mila euro e uscirne nella fase di exit stessa con un investimento più del doppio. Con questi soldi essendo Area Un incubatore Essendo Innovation Factory un incubatore pubblico ha deciso di generare altre attività di impresa e dando vita così ad altre realtà imprenditoriali. La società, come vi dicevo, è nata da un'idea molto semplice cioè quella di mettere online tutti quelli che erano i contenuti che frammentati tra le piccole società dei charter potevano essere così fruibili da un pubblico che non ne sapesse nulla di barche. In breve tempo appunto ha generato l'attenzione di tantissimi stakeholders nel settore del turismo trasformandosi in un vero e proprio tour operator perciò portando offline quello che era un'idea prettamente online e ha fatto sì di modificare in parte anche il modello di business e reinventarsi un po' nelle attività di impresa. Questo ci ha fatto capire che bene o male nella fase di creazione di un'impresa come questa che appunto nasceva da un'idea e si evolveva così rapidamente in 18-20 mesi bisognava continuamente modificare e reinventarsi certi aspetti per poter poi concorrere in un mercato che diventava sempre più concorrenziale. Nel momento in cui abbiamo proposto l'idea a dare Science Park e lei stessa ha deciso di diventare socia dell'impresa, della futura impresa eravamo soli nel mercato e creava questo una criticità perché se non c'erano competitors potenzialmente non c'era un vero mercato. Oggi ci sono quasi 108 portali come Blue Ago il mondo della nautica si è evoluta in un settore prettamente turistico e si è allargato un pubblico anche di neofiti. Questa è in breve diciamola. Bene, congratulazioni. Faccio anche a te la domanda sono uno studente, sto finendo l'università o un'idea bellissima per una start-up magari. Cosa devo fare? Ma oggi in Italia ci sono circa 100 incubatori di impresa 30 dei quali sono quelli cosiddetti certificati perciò direi che è il momento migliore per poter generare oggi quella che è appunto un percorso di incubazione dall'idea a un'impresa. Sicuramente siamo in un periodo favorevole anche da un punto di vista della liquidità. Ci sono un sacco di soldi in giro e quello che manca forse sono proprio le persone. Cioè idee e soldi ad oggi non mi sento di dire che mancano nella nostra regione siamo anche molto bravi a portarle avanti mancano le persone. Io stesso, devo dire la verità quando ho creato il portale web non essendo io un informatico ma avendo studiato economia mi sono trovato a dover assumere i programmatori informatici. Mi sono rivolto all'università di Trieste che contava e conta tutt'oggi ancora otto studenti iscritti alla facoltà di informatica magistrale dell'università di studi di Trieste. Cioè la mia società praticamente aveva assunto il 20% di tutta la forza lavoro possibile dell'università di studi di Trieste. Perciò ben vengano anche i percorsi di accompagnamento e di cultura se vogliamo a questo approccio dell'information technology anche da grandi società e da grandi istituzioni qual è la regione nell'invogliare i giovani ad iscriversi perché altrimenti avremo tantissime belle idee anche la possibilità economica seppur frammentata ma c'è ma purtroppo non avremo le persone per portarle avanti. Grazie mille.